Venafro, località La Madonnella, questo grande piazzale domani mattina sarà, tra virgolette, invaso dai mezzi agricoli. Quella che ormai in tutta Europa è identificata come la protesta dei trattori, vivrà in Molise un ulteriore step. Da Termoli, oggi, a Campobasso e Isernia, nelle scorse settimane, la mobilitazione di agricoltori e allevatori sembra inarrestabile. Tante difficoltà e fin qui poche risposte dal governo centrale e dall'Europa. Andremo avanti fin quando non le avremo, dicono gli esponenti del Comitato Agricoltori Alta Valle del Volturno, gli organizzatori della manifestazione di domani. I dettami della PAC, Politica Agricola Comune, con le drastiche restrizioni imposte dall'Europa a tutela dell'ambiente, che di fatto favoriscono i produttori extraeuropei. L'aumento dei costi delle materie prime, l'introduzione nel mercato europeo di farina di grillo e carni sintetiche, sono scelte che svuoteranno le stalle e i campi, finendo per distruggere il nostro lavoro, il timore degli agricoltori. Raffaele Cotugno. Nella doppia veste di Presidente del Consorzio di Bonifica della Piana e soprattutto di imprenditore agricolo, quanto è preoccupato per questa situazione? Tantissimo, lo stanno dimostrando i nostri colleghi europei, che non da poco stanno facendo questa manifestazione. Noi paghiamo lo scotto che subiamo delle importazioni di prodotti che noi abbiamo made in Italy, che è favoloso, e dobbiamo essere messi a concorrenza con grani fatiscenti, grani fatti con glifosato e quindi i nostri coltivatori, io personalmente, siamo sfiduciati e la politica dovrebbe intervenire su questo. E come dicevamo i trattori si ritroveranno qui domattina a partire dalle 10 per poi muovere verso un luogo in qualche modo evocativo della preoccupazione e della voglia di chiedere aiuto da parte di tutti gli agricoltori, il convento di San Nicandro.